Il classico che consiglio al Circolo dei Lettori di Milano è un classico legato alla mia infanzia, è Lessico Familiare di Natalia Ginzburg, che è un libro che ho adorato e ho riletto un bel po' di volte anche per lavoro. Trovo un libro essenziale perché partendo da qualcosa che tutti noi esperiamo nella vita, cioè il vernacolare della nostra famiglia, partendo da quello e dagli atteggiamenti familiari, in realtà questa autrice riesce a parlare di uno dei momenti più delicati della storia del nostro paese e quindi è la dimostrazione che il microcosmo, addirittura della famiglia, riesce a essere lo spunto più universale in realtà per quella che è addirittura la storia, quella grande. Un libro che ho letto di recente e che consiglio vivamente è il libro La Donna Gelata di Anir Luke e che è un libro meraviglioso perché è una sorta di educazione sentimentale, intellettuale, sessuale, però quasi un po' ritroso, nel senso che è la storia dell'autrice che si trova a crescere una famiglia sui generis, che è il contrario rispetto a quello che è la famiglia degli anni 40 e quindi in cui c'è una parità di ruoli che era assolutamente innovativa quasi e mano a mano che lei procede nella sua vita in realtà si piega in qualche modo a quelle che sono le leggi del patriarcato e lo consiglio non solo a tutte le donne ma anche agli uomini, soprattutto di questi tempi. Grazie.